Gesù salì a Gerusalemme, trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. Gesù vuole dare il giusto senso alle cose e vuole che il luogo di Dio non sia occupato da altro. Allora noi domandiamoci, c'è qualcosa a cui tengo e che mi piace che sia al suo posto? E ancora, qual è il posto di Dio nella mia famiglia e nella mia casa? Ciao a tutti!